Ciao amici bentornati e benvenuti nel mio canale io sono Adonai e oggi vorrei fare con voi un nuovo episodio di cc shopping allora oggi pensavo di concentrarmi sui toodler perché comunque sui toodler sono quelli che almeno nel mio gioco sono un pochino quelli più scarsi no di cc a parte mai nessuno sarà scarso quanto i maschi in generale le donne ho tante cose ma da uomo veramente pochissimo comunque il primo sito sicuramente che può menzionare è questo qui sslana cc find vi lascerò il link qua sotto nel box informazioni questo è praticamente il sito dove io vengo sempre dove io prendo tutto molto semplice ve lo spiego molto rapidamente sims 4 cc fa vedere le ultime cose per esempio adoro questo cappello e ve lo ribloggerò anche così almeno potete ritrovarlo vi ribloggo tutto su tumblr nella mia pagina adanai sims comunque lascerò il link anche di tumblr in descrizione e qua vedete che vediamo però le ultime cose uscite in ordine di cronologico di uscita e c'è di tutto da capelli a vestiti toodler donne maschi femmine mobili accessori c'è tutto ho già ribloggato qualcosa io in realtà in maniera che voi possiate trovarli e niente questa è la versione generale ma io oggi volevo concentrarmi appunto sui toddler quindi se cercate qualcosa di particolare andate su all tags sim 4 cc vabbè sim 4 scusate ormai avevo iniziato a dirlo in inglese l'ho finita in inglese vedete che qui comunque tutto diviso in sezioni sicuramente lo conoscete già questo sito perché è fantastico lo conoscano tantissime per un motivo ben preciso allora vogliamo clothing e gli diciamo per bambini andiamo a cercare la sezione toddler c'è anche children ovviamente toddler clothing hall potremmo anche scegliere se guardare solo le match nuove gli outfit per dormire vestiti per maschile e femminili per dormire per il caldo e per il freddo ma io andrei su haul vabbè io sto prendo nuove pagine non c'è non è che ce ne sia bisogno e c'è questa maglietta che non mi fa cioè mi piace ma non mi piace non mi piace molto la texture della manica quindi sono un po no niente questi questi sono i pantaloni di strangerville beh sono malvagi io ve li di blu se non muoio io ve li li bloggo ecco qua ma si prendiamole questi jeans che non ne ho tanti di jeans quindi vabbè apriamo su a without ads qui cercate se c'è sempre without ads cioè ad fly perché sono quelli che vi danno le pubblicità ah forse devo dobbiamo credo essere loggate per poterlo esatto no ma io non voglio loggarmi non voglio la newsletter quindi ok niente ci prendiamo la ds in questo caso ragazzi mi raccomando non aprite assolutamente niente di quello che appare in questa pagina cioè mi è arrivata addirittura alla cosa di amazon che avrei vinto un samsung galaxy s 10 o un iphone xs ma magari appunto il galaxy s 10 devo comprarlo quindi mi avrebbe fatto piacere vincerlo ma non penso proprio quindi non cliccate niente perché cliccare in questa pagina vuol dire rendersi un malware o spyware o qualcosa di poco carino cliccate solamente qui una volta finito il caricami il conto alla rovescia di 5 secondi skip this ad cliccate qui chiudete questa pagina e ritornate nella pagina dove si è aperto sim file share a questo punto potete scaricarlo io mi metto tutto in modo molto ordinato cioè molto ordinato insomma più o meno ordinato le cose per bambini le metto in una cartella a parte kids c'è anche questo che è carino io ve le ribloggo anche questo qua che è il giacchettino militare per i piccoli che è molto carino c'è questa questa magliettina che mi piace quindi vi ribloggo anche questo e lo scarico anche vediamo onedrive sim file share io scelgo sempre sim file share quando c'è altrimenti seconda scelta mediafire ok chiediamo questa questa qui anche mi piace molto di onyx sim sempre io poi ogni tanto faccio casa al creatore perché magari poi a volte vado direttamente nella sua pagina per poterla spulciare con più attenzione spesso e volentieri magari trovo cose che non vedo sull'ana sims perché magari sono più vecchie e quindi non me le fa vedere subito e ho trovato spesso cose interessanti qui c'è questo cappottino per i bimbi è carino ve lo ribloggerei perfetto questa tutina non mi fa impazzire questo io ve lo ribloggo perché non è male però non non mi stimola così tanto da scaricarlo quindi io non lo prendo qui c'è questo maglioncino che è carino anche per carità e da qui oh questo costume è adorabile cioè non lo voglio assolutamente quindi è sempre di questa onyx sim quindi questo fa capire che questa ragazza questa creatrice c'ha cose carine per i toodler ve l'ho ribloggato comunque oh vedete che adesso toodler boy toodler girl e possiamo andare a vedere qualche outfit per i toodler in generale queste per esempio già ce l'ho vedete che c'è cose carine questa è bellina un sacco per esempio tanto mi scarico questa ora voglio capire se posso ribloggarlo da qui no peccato avrei voluto ribloggarvela questa pagina comunque vi lascerò in questo caso il link in descrizione così almeno potete trovarlo sim file share già che c'è e via scarichiamoci questo nevaset quindi si raga quando trovate un sito così carino io vi consiglio assolutamente di andare a dare un'occhiata all'interno per scoprire quello che c'è e che non abbiamo visto quindi qui scarichiamo entrambi i file kid vai eccoli qua tutte e due io voglio fare un'altra cosa me la voglio aggiungere ai preferiti dentro la cartella dei sims 4 perché dentro questa cartella ho tutti i siti che frequento che vedo poi andremo a vedere magari non appuntata a parte questa salopetta è adorabile questo vestito è adorabile nooo la fa vestita da da zucca è fantastico è veramente molto simpatica questo voglio dargli un'occhiata intanto scarichiamo queste qui sim file share vai e chiudiamo ok anche questa mi piace molto quindi ce lo prendiamo mi raccomando fate sempre attenzione se c'è da scaricare qualche mesh ora in questo caso non c'è le mesh da scaricare ma a volte potrebbe essere necessario tipo per esempio mesh requited download here quindi dovete scaricare anche quella altrimenti non si vedrà che è questa qua vedete questa è la mesh quindi dobbiamo scaricare questa qui in mesh comunque mi raccomando prestate attenzione alle mesh abbiamo visto qualcos'altro possiamo continuare sull'ana cc qui c'è un fan made ci sono quei pacchetti dove ci sono varie vari oggetti vari cc che ora io a me non mi interessa questo dell'inverno ne ho altri di pacchetti molto carini sono fatti dai fan le chiamano come anche pack no come fossero degli staff pack però fatti dai fan questo è carino però non ricordo se l'avevo preso in realtà in ogni caso ve lo ribloggo così lo trovate nel mio tumblr potete scaricare potete scaricarlo subito no vabbè questa questa cosa è molto simpatica anche se ora vabbè risparmierò i miei toddler di vestirsi così questi bambini sono un po' inquietanti sembrano fin dell'orrore però va bene qui c'è una gonnellina di jeans che non mi fa impazzire quindi vado oltre io trovo un po' più difficoltà a trovare cose che mi piacciono per i bambini e per i toddler ho notato questa cosa mentre per gli adulti specialmente le femmine trovo veramente cose che mi piacciono ogni 3 secondi però questa mi piace adorabile quindi download here non dice niente sulla mesh ve lo ribloggo questo vestitino non mi piace assolutamente la texture questo mi sembra che ce l'ha vissi però ve lo ribloggo comunque questo è molto invernale c'è un'altra tuttina che è anche carina no? no bellissima voglio anch'io il toddler dentro le scarpe della mamma voglio voglio la cosa è bellissima vabbè andiamo oltre vestitino questo l'abbiamo preso questo è molto elegante se uno ha una decadess questo potrebbe essere un abitino interessante ve lo ribloggo per questo così se qualcuno sta giocando alla decadess challenge e non sa come vestire i toddler maschi ecco qua che li avrete anche voi volevo tra l'altro effettivamente aprirvi il mio tumblr giusto per mostrarvi ciò che per adesso ho inserito sì perfetto sono già loggata questo vabbè l'ho appena messo questo pure perché avevo già ribloggato dei cicci vedete questo set per dormire molto carino questi capelli la tuta qui iniziano per le donne perché io ragazzi questo costume mi piaceva tantissimo quindi se andate sul mio tumblr troverete i link a queste cose questo vestitino molto grazioso capelli per bambine i capelli per adulte avevo già quindi questo è un video molto interessante è il primo forse che ribloggavo mi sono fatti di questa ragazza che si chiama Nexl non so esattamente come si legga perché è un po' lo scioglilingua però lei fa questi video dove praticamente tops ve li mostra e qua ci sono tutti i link il 2 il 3 il numero è qui e qua trovate qua la corrispondenza per scaricare tutti i cicci che lei vi mostra molto carino ce ne è tantissimi vedete 137 quindi ho voluto ribloggarvelo per mostrarvelo e farvelo vedere torniamo un attimo sull'ama cicci anche se più o meno io sono arrivata a vedere quasi tutto poi torno dove ero già stata sì queste cose già le avevo viste in realtà comunque va bene quindi abbiamo visto toddler vediamo sempre su clothing e shoes costumes vediamo cosa c'è in costume dovrebbero essere costume tipo infatti halloween l'astronauta queste cose qua che a me non interessano particolarmente tornando sempre sui toddler o il tag sims4cc genetics magari andiamo a vedere un po' di loro capelli eh ho sbagliato non genetics eh i capelli ho sbagliato e anche qui c'è sia children che toddler andiamo a vedere i toddler questi sono alpha edit io preferisco i maxis match più che altro per una questione di uniformità e adorerei gli alpha in realtà perché li trovo più realistici però i giochi il gioco ha più ha più personaggi con maxis match quindi non mi piace che ci sia questo questa differenza ecco ecco questo ve lo riploggo che questi capelli mi piacciono tantissimo e me li scarico anche simfelshare non c'è bisogno della mesh è già in compresa quindi prendiamocelo kids sono ragazzi infatti ragazzi miscolo capelli e vestiti mentre per gli adulti metto in sezioni separate clotes e hair per sicurezza questi già li avevo presi sono anche molto carini quindi ve li riploggo e li riploggo questi qua ma non sono male questi senza la frangetta e questi con la frangetta ma si prendiamoli questi non mi piacciono invece però ve li riploggo perché almeno voi potete scegliere se prenderli comunque c'è link agli altri due c'è anche la versione per bambini quindi direi di scaricare anche quella più uguale ok bene ragazzi direi che col cc shopping oggi possiamo fermarci qua oh questo ve li riploggo prima di fermarci e me li scarico vabbè finiamo la pagina dai così almeno non abbiamo rimpianti che non volevo fare un video troppo lungo riplogga questi non sono male però insomma questi invece sono molto carini quindi ce li scarichiamo adult version ci sono anche le versioni per adulti che non mi interessa quindi ce li prendiamo all facciamo così li voglio tutti quindi all e vlog ok questi sono molto carini ve li riploggo questi sono simpatici vi riploggo anche questi e me li scarico anche ah c'erano anche questi sotto no però non mi fanno impazzire e qui dei capelli sciolti molto tranquilli se li fa lo share ok e vi riploggo pure questi spero di avervi fatto trovare qualche cc utile per i toddler spero che abbiate trovato interessante comunque questo video fatemi sapere voi dove invece andate a scaricare il vostro materiale personalizzato se avete altri siti se c'è qualche creatore che preferite io spero di esservi stata utile di avervi fatto trovare qualche capello per bambini e toddler che magari non avevate visto e vi do appuntamento la prossima volta con una nuova puntata un nuovo cc shopping una nuova mod review chissà cosa arriverà poi vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto per stare aggiornati su tutte le mie novità e vi mando un grosso bacio soapsul e vi mando a iscrivervi 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 a iscrivervi e vi mando a iscrivervi e vi mando a iscrivervi e vi mando a iscrivervi a iscrivervi e vi mando a iscrivervi